Amici soft e libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova recensione Questa volta dedicata a una distribuzione italiana un po' particolare Perché dico un po' particolare? Perché si rivolge a una specifica nicchia di utenti Ovvero tutti quanti quegli utenti liberi professionisti che vogliono trovare Linux Vogliono utilizzare Linux anche sulle proprie macchie da lavoro Ma che normalmente non lo fanno per paura di non avere il supporto a determinati strumenti di libero utilizzo in ambito lavorativo Sto parlando a tutti quanti quegli liberi professionisti che magari hanno la necessità di avere la chiavetta per la firma digitale completamente funzionante Di poter avere accesso al software per il processo civile telematico e quant'altro Quindi tutti proprio i liberi professionisti italiani Questa distribuzione si chiama Ufficio Zero ed è una distribuzione che ha diverse edizioni Perché diverse edizioni? Perché il team di Ufficio Zero Linux ha all'attivo diverse relays della distribuzione Basate su diverse distribuzioni principali Abbiamo quelle basate su Linux Mint da BN16 Abbiamo un'edizione basata su Linux Mint 21.x Abbiamo un'edizione attualmente ancora in corso funzionante basata su Linux Mint da BN165 Ma abbiamo anche una versione basata su PC Linux OS E anche una versione addirittura basata su DevOne Tutte queste distribuzioni hanno dei nomi iconici di città italiane Abbiamo Portofino, Tropea, Cagliari, Urbino Abbiamo anche una versione dedicata a Vieste, la cittadina in provincia di Foggia Rinomata per il suo splendido mare E' particolare questa distribuzione Capiremo avanti perché merita un'installazione Quanto meno se siete utenti che volete avvicinarvi al mondo Linux E siete utenti che volete utilizzare Linux sul vostro PC lavorativo Magari anche per suscitare tutti quei vecchi computer Che sappiamo come funzionano in diverse realtà lavorative italiane In diverse aziende Ci sono computer che sono un po' datati, un po' vecchiotti Che però continuano a funzionare con vecchie versioni di Windows Mantengono anche degli uffici con queste vecchie versioni E qui possiamo passare a una distribuzione Linux Per avere più sicurezza e avere tutti gli strumenti necessari per poter lavorare Quali sono le caratteristiche di questa distribuzione? La prima caratteristica di questa distribuzione è la presenza di un repository Integrato all'interno della distribuzione Che ha una serie di pacchetti dedicati al mondo della stampa e dello scanner Che cosa succede? Succede che sulle principali distribuzioni Linux Abbiamo preinstallati, presenti all'interno dei repository Una serie di driver per le periferiche Di stampanti e scanner più famosi E in alcuni casi siamo costretti a ricorrere a siti dei vari produttori Quindi per poter andare a scaricarci i driver compatibili Per poter far funzionare il nostro scanner o la nostra stampante Io ad esempio sono uno di quegli utenti che utilizza prodotti della Brader E ogni volta mi ritrovo a dover andare sul sito della Brader Ad ogni posto di installazione e andarmi a scaricare il pacchetto per far funzionare lo scanner Con questa distribuzione non avete questi problemi Perché il team di Ufficio Zero Linux si occupa di andare a pescare tutti quanti quei driver di terze parti Che normalmente non sono presenti all'interno del repository Delle principali distribuzioni E andare a impacchettare e rendere disponibili tutti all'interno di questo mega repository Altra caratteristica interessante del team di Ufficio Zero Linux È quella di andare a venire incontro agli utenti Se voi avete un particolare driver di una particolare stampante Che non è presente all'interno del repository E volete che venga aggiunta all'interno di questo repository Del team di Ufficio Zero Linux Basterà scrivere sul form di supporto Chiedere l'introduzione Il team di Ufficio Zero Linux sarà pronto a prendere e impacchettare il tutto All'interno dei repository della distro In modo tale da venire incontro al vostro problema E a quello di eventuali altre persone Altra caratteristica molto importante Perché questa distribuzione come vi dicevo Si rivolge al mondo aziendale Al mondo dei liberi professionisti Riguarda l'inclusione di Anzi l'installazione facilitata Di alcuni software per la firma digitale Come RubaSign, come Gosign, come quello di Bit4D Tutti quei software che se utilizzate chiavette per la firma digitale Sapete che sono una rottura installare sulle varie distribuzioni Io stesso mantengo un pacchetto per Auro, per Dike ad esempio Perché è un software che è molto difficile farlo funzionare Ci sono diversi scamotaggi che bisogna andare a farlo di volta in volta Per abilitarlo su Linux Qui abbiamo tutto bello impacchettato Tutto bello pronto all'interno di questo repository Poi vediamo che i ragazzi del team di UfficialZeroLinux Vanno anche a continuare ad aggiungere funzionalità L'ultima notizia di questi giorni È che hanno introdotto il supporto ai dispositivi Fido2 di Ubico Che possono essere usati su UfficialZeroLinux Quindi in maniera facile Tutto è stato introdotto all'interno dei repository della distro Quindi sono sul pezzo Cercano di fornire tutto quanto il supporto possibile agli utenti Ed è una cosa che fa davvero piacere Perché lo fanno Lo fanno per migliorare la distro Per aiutare sempre più persone Come si mantiene il team di UfficialZeroLinux? Beh, offre Attualmente viene mantenuto Dalla società Che Qui fa capo Lo sviluppatore principale di UfficialZeroLinux Però offre anche alcuni servizi Diciamo così A pagamento Per supportarsi E venire incontro anche agli utenti Qui possiamo vedere che anche Hanno ad esempio Un servizio di installazione della distribuzione Basterà impacchettare il vostro computer Al prezzo di 30,50 euro Che sono fatturate Quindi Iva incluse Fatturate Quindi potete scaricare Se siete liberi professionisti Loro provvederanno a Prendere il vostro computer Ricevere il vostro computer E andare a installare UfficialZeroLinux Quindi vengono anche incontro Agli utenti Che non sono Propriamente novizi Fanno anche poi un servizio di assistenza remota Qui potete vedere Come funziona Anzi Quali sono i costi Del servizio di assistenza remota Quindi Fanno Fanno un business In questa maniera Andiamo a dare Un'occhiata All'ultima versione Io ho scaricato L'ultima Versione Di UfficialZeroLinux Quella basata su Linux Mint Debian Edition 6 Andiamo a dare Perché ho messo 25 Non lo so Perché stavo dicendo Se mi è partito Così Andiamo a dare uno sguardo Alla distribuzione Vediamo come va Come gira Come va Il tutto Come funziona Allora Anche qui possiamo vedere Che hanno personalizzato La schermata di boot Facciamo partire La distribuzione Andiamo a spucciare un po' Tutti quanti I menu Di questa distribuzione Insomma Andiamo a vedere Se funziona Il tutto E anche come è stato Impacchettato graficamente Questa distribuzione Per maggiori dettagli Su questa distribuzione Io vi invito Non soltanto A guardare Il loro sito di supporto Ma anche A un video di approfondimento Che è stato fatto Da Alternativa Linux Che ha fatto una bella recensione Lunghissima Su questa distribuzione Io mi rimiterò Alle mie impressioni a caldo Come sapete Che non sono recensioni Non sono recensioni professionali Ma sono recensioni Che vanno C'è il suono di avvio Dicevo Sono delle impressioni a caldo Sull'utilizzo Della distribuzione Allora Come possiamo vedere Già al primo avvio Abbiamo un Un look Che ricorda Quello di Windows 11 Ufficio 011 L'edizione con scaricato Io è basato Come potete vedere Su Cinnamon Quindi Abbiamo tutte quante Abbiamo Cinnamon Come desktop environment Con tutti quanti Gli applicativi tipici Di questo Desktop environment Andiamo a vedere Come funziona L'installer Così Vediamo anche il processo Di installazione Vediamo se hanno modificato Qualcosa Se hanno introdotto Qualche installer Particolare O quant'altro Vediamo Si Si è carica Sto su macchine virtuali Sapete che In macchine virtuali C'è sempre qualche Problemino Soprattutto Quando utilizzo Le macchine Virtuali Nel frattempo Fatemi chiudere Telegram Altrimenti Fra poco iniziano A arrivare Notifiche E quant'altro Che sta succedendo Oibo Ah ecco E' partito E' la lentezza Della macchina In virtuale Allora L'installer Che possiamo vedere In questo caso E' proprio L'installer Quello tipico Di Linux Mint Quindi hanno Si sono limitati A personalizzare L'installer Di Mint Allora Andiamo a dare La tastiera Quella che utilizzo io Inglese Americana Quella Internazionale Con Dead Che Dasti Morti Bruttissimo Ogni volta Che gradico Sta cosa Io oramai Sono Quasi un Due anni Tre anni Che utilizzo Questi tipi Di questo Rilato Di tastiera Instaliamo anche I codici Ultimidiali E non riesco Più a utilizzare Le tastiere Quelle che Normali Perché so Comodissime Fare le accentate Con questa È una cosa Spettacolare Vi consiglio A tutti quanti Di passare A un Wayout Americano Internazionale Della tastiera Ne guadagnerete Marco Uzita UZ Con un Fiscio Zero Mettiamo Una password Uno Due Tre Quattro Complicatissima Per la nostra Instagazione E facciamo Partire L'installazione Vediamo se Hanno personalizzato La splash screen Durante l'installazione Ah no Non c'è nulla Ah no Ecco Partito Ti diamo il benvenuto Ti ringraziamo Per aver scelto Ufficio Zero Questa presentazione Ti terrà compagnia Mentre il sistema Sarà installato Io direi Magari adesso Di mettere in pausa E ci vediamo Nel post Di installazione Perché altrimenti Vi annoio troppo E rieccoci qui Sulla distribuzione Su Ufficio Zero Linux Abbiamo terminato L'installazione Abbiamo riavviato Il tutto E questo è il Desktop environment Così come si presenta Settato dal team Di Ufficio Zero Linux Quindi abbiamo Un cinnamon Con un look and feel Diciamo così Alla Windows 11 In modo tale Da non spiazzare Gli utenti Alle prime armi Quindi troviamo Il meteo in basso Troviamo Il lanciatore applicazioni Troviamo Google Quindi effettua ricerche Cerchiamo Marco's box Vediamo che cosa fa questo Vabbè Poi andiamo a vedere Che cosa fa Questo lanciatore Ah sì Ecco si è avviato Si è avviato Si è avviato Ecco Dovamo soltanto Aspettare qualche secondino Allora Troviamo poi Vediamo un po' Quali sono le applicazioni Preinstallate Su Ufficio Zero Allora Accessori Da quel che vedo Sembra una classica Installazione Di Linux Mint Con tutte quante Le varie applicazioni Quelle che troviamo Preinstallate MPV Media Player PX Tutte quante Le applicazioni Abbiamo Firefox come browser Predefinito Abbiamo Thunderbird Abbiamo la situe Di LibreOffice Tiretina d'orecchie Per il team Di Ufficio Zero Linux Andate a cambiare Un po' queste cavo Di icone di terze parti Perché Stanno le icone Di terze parti Di LibreOffice Che scimmiotano Quelle di Microsoft Office Ed è bruttino Da vedere Per chi Per chi è affezionato Allo suite di LibreOffice Vedere così Perché mi paragonia Quello Io sono superiore Troviamo E poi adesso La prima caratteristica Di Ufficio Zero Linux Troviamo Delle web app Che sono collegamenti A che cosa Adegu Gdpr Vediamo un po' Che cosa Quale sito Si va ad aprire Che è Adegu Gdpr E c'è ragione Perché è già avviato Firefox Adegu Gdpr Che cosa si va Ad aprire Si va ad aprire Ah ecco Questo è un servizio Offerto Dalla Site SRS Che è la società Che realizza Ufficio Zero Linux Che cosa abbiamo più Abbiamo più come web app Andiamo su web app Condividimi cloud Che immagino che sia un altro servizio Offerto Offerto da loro Anzi no Non è un servizio Un servizio offerto da loro Ah no si Un servizio offerto da loro Anche in questo caso Che cos'è un cloud Quindi abbiamo Un'installazione Di un On cloud Perché non andate a mettere Un'immagine Del sito internet Di Marcosbox Perché grazie sotto Vedo La mia La mia Nemesi Mannaggia Modificatelo Voi Dettiamo Di Ufficio Zero Linux Sapete che cosa Dovete andare a modificare Adesso Subito 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 Questo è il collegamento Al forum Di Ufficio Zero Linux Dove Vi dicevo È un forum Molto attivo Quindi Risolvono problemi Qualsiasi Qualsiasi idea Qualsiasi suggerimento È sempre ben accorto Qui abbiamo anche I repository Con le stampanti Quindi se avete Qualche esigenza Comunicate E provvederanno Ad accontentarvi Poi che cosa Abbiamo più Tramite il Chrome Web App Il sito Di Ufficio Zero Lo store Di sito SRS Il wiki Di Ufficio Zero E abbiamo anche Gizzi Gizzi Quello del servizio Di messaggistica Video chiamata E quant'altro Che si era diffuso Nel periodo Del covid Che è Come alternativa Ai vari servizi Proprietari Ed è anche Una cosa piacevole Da vedere Che è tutto Presente Sulla distro In maniera Out of the box Vediamo un po' Quali sono I tool Specifici Di questa Distribuzione Anzi Andiamo a vedere Prima Origin software Così Andiamo a vedere I repository Personalizzati Qui dovremmo trovare I repository Aggiuntivi Eccoli qua I repository Aggiuntivi Abbiamo Questo qui Che è un repository Di ufficio zero Con Immagino che sia Quello qui Con i driver Quantum mirror Questi sono Dei mirror Evidentemente Sono stati messi In caso va giù Uno dei Dei mirror Uno Il mirror Il principale Ci sono questi qua Di backup Poi abbiamo Ah no Questo è quello Degli stampanti Quello Che è attualmente Presente Su Star Forge Chissà perché Hanno scelto Questo Come servizio Per mantenere Questo tipo Di repository Magari Lo chiederò Ai ragazzi Di ufficio zero Andiamo Nei post install Post install Vediamo Che cosa Fa Praticamente Sembra un fork Del software Manager Andiamo A vedere Che cosa Contiene Questo Repository Nel frattempo Possiamo Vedere Qui Ci sono anche alcuni Aggiornamenti Da fare Ma Questo è il classico Strumento Degli aggiornamenti Che troviamo Su Linux Mint C'è qualche problema Con la generazione La cache Nel frattempo Andiamo a vedere Qualche altra cosa Se c'è Qualche altro strumento Che può esserci utile Sulla distribuzione Ano Si è caricato Allora Che troviamo Trofiamo Troviamo Andiamo a vedere Qui ma quali sono I programmi Che mettono Loro Perché UZL Ufficio zero Quindi immagino Che è tutta roba Loro Ah ecco Troviamo Preimpacchettati Anche alcuni Pacchetti Di altri strumenti Di altre applicazioni Fai Ziga Ghini Lazarus Remina Per il Dextro Premoto Interessante Questa cosa Andiamo indietro Qualche programma Di grafica Vediamo Che versione Che è 2.10 12.30 Ci fa scegliere La fonte C'è anche La fonte Fatto pacco Ovviamente Diciamo che questo È un remind Per le persone Che installano La distro Che ti fanno capire In grafica Abbiamo la possibilità Di installare Questo Non è alto Vediamo Noi dobbiamo Cercare Qualche cosa Tipica Di ufficio zero Linux Ecco per esempio Questa è un'altra cosa Tipica di ufficio zero Linux Perché vedo Che C'è la possibilità Di installare Anydesk Brave browser Perché la versione Nightly La versione normale Non c'è Un attimo No è la versione Nightly Strano Questa scelta Di utilizzare La versione Nightly Del browser Che troviamo Cid Troviamo 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 Google Chrome Che possiamo installare Con un semplice Click Utile Per chi Per chi A riprimarmi Una cosa del genere E troviamo Che troviamo Più Ah Troviamo anche Questa Web Desktop Wrapper In Electron Per Microsoft Office 365 Troviamo anche Edge Versione stabile Che possiamo installare Direttamente A ripositori QGIS Vediamo Che cosa c'è Di Particolare Ufficio Zero Kring Ufficio Zero Per la casa Ripo Ok Libre Wolf Mi sembra Che non rappresenta All'interno Anche Dei Ripositori Di Glucksmint Quindi Anche in questo caso È un browser Alternativo Che potrebbe Far piacere Ad alcuni Di voi Troviamo Poi Multimedia Qualche Che saranno Ah L'avevamo visto Prima Multimedia Ma vediamo Io cerco Qualche cosa Relativa Alla Installazione Di 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 Altre Cosucce Eccole qua Trovate Installa Cuba Vediamo Che cosa fa Ecco Questo è quel tool Di cui vi parlavo Prima Dà la possibilità Di installare Facilmente Sulla Distribuzione Gli applicativi Per la firma Digitale In questo caso Va a scaricare Da repositori Di ufficio Zero L'ultima Versione Di Aruba Science E va A installarla Nel frattempo Vi facciamo fare Il processo Di installazione Andiamo a vedere Qualche altra cosa Perché Oltre a questo Ho visto anche Un altro Installer Ecco qua Un'altra cosa Interessante Che c'è la possibilità Di installare Wine In maniera Facilitata Quindi Se io adesso Andiamo a vedere Va a installarci Anche Wine Interessante Questa cosa Vediamo un po' Se riesce a installare Aruba Sin Che cosa fa Se ci fai Il lanciatore E quant'altro O che ci ha fatto Anche il lanciatore Quindi se l'ha vista Lui per installare Il tutto Comodo E vediamo Possiamo installare Anche Come vi dicevo Prima Altri Tool Per la firma Digitale Immagino che Siano sempre Nel Tool Di prima Andiamo a vedere Un'altra Sbirciata Che forse Non l'abbiamo Visti Non l'abbiamo Visti Prima Allora Dove l'avevo Visto Dove l'avevo Visto E posso installare Vediamo se ci sta Qualche'altra cosa Upgrade Ufficio 0 Immagino che serve Per fare gli aggiornamenti Di versione Andiamo a rivedere Il post install Questo Chiudiamo 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 Questo È uno dei software Più conosciuti Per la firma digitale Anche se io Non amo Particolamente I servizi Offerti Da Da ruba Devo dire Devo dire che Il software Che realizzano Per la firma digitale È migliore Rispetto a quello Di Gosigni Che è quello Che normalmente Utilizzo Vediamo Se io Ho Gosigni All'interno Dei repository Ecco qua Gosigni Desktop Troviamo Il pacchetto Che possiamo Installare Quell'altro Era bit 4D E ci C'è bit 4D Quindi sono Tutti pacchettini Che Ah ecco Ci va a installare Anche il middleware Che serve Per far funzionare Tutti questi software Interessante Questa cosa Che praticamente Serve per i lettori Di Di smart card E anche Di chiavette Per la firma digitale Questo per esempio Questi due pacchetti Sono due pacchetti Essenziali Per il funzionamento Di questi software Nel frattempo Sto vedendo Che sta continuando A installare Wine Quindi E' anche utile Questa cosa Per gli utenti Che ci consente Di fare tutto Con pochi click Nel frattempo Minimizziamo Andiamo a dare Una sbirciata Magari anche Al tema Di icone Un tema Uguale A quello Di Di Windows Di Windows 11 Che Scimmiata Windows 11 Quindi Gli utenti Nuovi Non si troveranno Spiazzati Se siete utenti Navigati Come il sottoscritto O direte In maniera In maniera Riavata Questa cosa Però vabbè Ci sta Ci sta Renderò Renderò simile Per tutti Gli utenti Alle prime armi Questo è un altro Tool Che non c'è Presente Direttamente All'interno Dei pacchetti Preconfigurati Di Linux Mint Che cosa fa Questo tool Andiamo a vedere Nel frattempo Che Si si Ah Quindi Continua a instalarci Tutto quello Che ci serve Se la vede tutto Lui In automatico Dai Ci sta Una cosa del genere Ci sta Ci sta Ci sta Vedete Sta Sta facendo tutto Io Basta che Andate avanti 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 Quindi Ottima cosa Per gli utenti Alle prime armi Perché Perché Non hanno Non hanno complicanze Basta che Cliccano avanti 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 Si ritrovano Si ritrovano Tutto installato Questo che cosa fa Gestore driver Andiamo Ah Gestore driver Aggiuntivi Sì Scemo io Quello che Non l'ho riconosciuto Dall'icona È il classico Gestore driver Di Linux Mint Lo possiamo anche Chiudere Perché tanto Lo conosciamo È straconosciuto Se utilizzate Linux Mint Conoscete questo software E niente Questo Questi sono I programmi Che vengono Aggiunti Alla La distribuzione Quindi troviamo I post install Che ci consente Di andare a installare Una serie Di applicativi In maniera grafica Applicativi Come vi dicevo Per la firma digitale E quant'altro Troviamo Tutti quanti Link ai servizi Offerti da Ufficio Zero Tutti quanti Link ai forum Tutti quanti Tutto quello che ci serve Per poter Avere anche Assistenza Nel post installazione E troviamo La possibilità Di installare Facilmente Wine Io in questo momento Io in questo momento Non ho Sottomano La chiavetta Per la firma Digitale Quindi Immagino che non funzioni Manco se l'attacco Su macchina virtuale Quindi dovrei fare Un'installazione Dal vivo Per dirvi se funziona Subito L'otto due box E non ho nemmeno Sottomano Driver La possibilità Di installare Driver esotici Di stampanti Però mi fido Del team Di quanto pubblicizzato Dal team Di Ufficio Zero Linux Anche perché ho visto Anche i video Di Alternativa Linux Di come diceva Che erano state Riconosciute subito Alcuni stampanti Alcuni scanner Quindi Andate a vedere Il video Di Alternativa Linux Se volete maggiori Informazioni su questi dettagli Io vi ripeto Vi sto dando Soltanto Una infarinata Vi sto dando Uno sguardo Alla distribuzione E vi dico Quali sono Le mie impressioni Da pinguino E Che dire Può essere Uno strumento Può essere Una distribuzione Interessante Per quegli utenti Alle prime armi Utenti professionisti Io Bazzicando un po' Il mondo Degli uffici E quant'altro Vedo che Ci sono uffici Che Vanno avanti Con versioni Vecchissime Di Windows Che non Aggiornano Perché non Vogliono Aggiornare Il parco Arde Anche Per questioni Economiche Spesso e volentieri Una distribuzione Come questo Può andare In conto A tutti questi Libri I professionisti Per poter avere Per poter avere Uno strumento Una distribuzione Più stabile Più moderna Più sicura E avere al contempo Tutta una serie Di applicativi Preinstallati Per poter funzionare Per poter Lavorare In libertà Quindi Ci sta Ci sta Questa Distribuzione Spero che Con le prossime Versioni Cerchino Di avere Una Maggiore identità Soprattutto Un'identità Visiva Della Distribuzione Spero che Aggiungano Anche qualche Altra chicca Per migliorare La produttività Di ufficio Con magari Qualche altro Software Preinstallato L'unica L'unica Tiretina D'orecchia Che io mi sento Fare Mi sento di fare A quelli di Ufficio Zero Linux Faccio vedere una cosa Come vi dicevo All'inizio L'ora Portano avanti Diverse Edizioni Di Ufficio Zero Linux Ho parlato con Lo sviluppatore Principale Di Ufficio Zero Linux E lui mi ha detto Che stanno Continuando a Mantenere Tutte quante Queste edizioni Sia per offrire Supporto Ad hardware Un po' datato Sia perché Sono un progetto Giovane Quindi Stanno ancora Cercando di capire Che base Utilizzare Quel che mi sento Di consigliare Ai ragazzi Di Ufficio Zero Linux E quello di Scegliere soltanto Una base Prendetevi una base Magari Prendetevi appunto La base Di Inxmin Debian Edition Che offre Una base Debian Solida Sicura Con Cinnamon Come Dextrop Environment Che è un Dextrop Environment Che è Stabile Non è particolarmente Soso E quant'altro Si può personalizzare Se lo volete personalizzare In maniera In maniera Grafica Quindi Ci sta anche Che potete fare subito Delle personalizzazioni Visive Per la distribuzione E quindi Portate avanti Soltanto questo Inutile che vi portate avanti Tutta questa creazione Di Edizioni Perché Sono parecchie Sono parecchie E poi Vi vedo Che ci sta Soltanto su una distribuzione E andate avanti Su questo Per me Si questa distribuzione Una distribuzione Interessante Ha il suo perché Ecco Come vi dicevo Anche nel video Recensione Di rolling grind Linux Ha un suo perché Di esistere Questa distribuzione Si colloca In una specifica Fascia Ha un target Di utenti E Mira quelli Quindi Si Una distribuzione In questo senso Ha senso Di esistere Fare Le solite distribuzioni Come avevo detto prima Faccio sempre L'esempio Ultramarine Linux Che non va ad aggiungere niente Per me Ormai Sono un pinguino Navigato Su un pinguino Che va avanti Da diversi anni Che prova distribuzioni In quantità industriale Ne ho provate tutte Parafrasando Il caro vecchio Rocco E' inutile andare a fare Distribuzioni Cambiando soltanto Qualcosa Fate distribuzioni Se dovete investire Anche le vostre risorse economiche Il vostro talento Mirate a realizzare Distribuzioni Che si vanno a collocare In una determinata nicchia Perché si Perché così avete senso Di esistere Così avete anche Avete anche attrattività Da parte del pubblico E Ufficio Zero Linux Avendo questo Questo business Questa Questa collocazione Di tutti quanti I libri professionisti italiani Ha il suo perché E ci sta Ci sta Approvata Da Marcos Box Lunga vita E prosperità A tutti quanti Ci rivediamo In una prossima Videorecensione Spero la prossima settimana Oppure ci risentiamo Sul podcast O ci seguiamo Come al solito Sul blog Di Marcos Box Con le notizie Dal mondo del software libero Open source Ciao ciao a tutti quanti